ben ritrovati ben ritrovati su in genere horror io sono sempre greg uscito in sala furiosa a mad max saga nove anni dopo quel grandissimo film che è stato mad max fury road diretto sempre da george miller ovviamente quello che poi è diventato un instant cult che è diventato è anche un mezzo capolavoro un film visivamente tecnicamente mostruoso film che nella sua semplicità di linea narrativa uno spostamento da un punto a un punto b e ritorno con una serie di situazioni di sviluppo di personaggi in veramente in un film dove è tutto azione e al tempo stesso riesce tra le pieghe a raccontare nonostante ci sia una unida dall'inizio alla fine un susseguirsi di situazioni che ti levano il fiato che che non ti lasciano per un secondo furiosa è un attimo diverso nel senso che sviluppa veramente una storia in diversi atti in diverse situazioni sviluppa personaggi tutti quei personaggi che sono stati accennati quei luoghi di cui avevamo sentito anche parlare in in fury road è ovviamente il proseguo di una saga partita nel 1979 quel mad max da noi uscito con il titolo di interceptor che ci proponeva e proponeva al mondo una produzione australiana e un film inventato in un'australia post apocalittica che avrebbe dato da lì in avanti ispirazione a tantissimi film basti pensare a tutto ciò che ne verrà fuori di sottogenere post apocalittico addirittura il grandissimo film di john carpenter 1997 fuga da new york segue un filone post apocalittico oltre ad aver ispirato poi la serie animata kenny guerriero aver ispirato tutto un filone di post apocalittici italiani da castellari dai film di castellari in avanti film veramente di grande fascino anch'essi ma ispirazioni a film che non c'entrerebbero nulla e non c'entrano nulla con il con il filone post apocalittico perché james one lo ha dichiarato di aver preso ispirazione l'utilizzo della sega per tagliarsi il piede invece di liberarsi di tagliare la catena diciamo che è che vediamo in in so che è un po il simbolo inizialmente dell'inizio della saga di so è ispirato si ispira a quello che già avevamo visto in in interceptor l'importanza di interceptor è stata veramente fondamentale un successo commerciale straordinario incredibile tra i più grandi successi forse il più grande successo australiano a livello produttivo schiere di fan incontri e raduni che si sono susseguiti che e che vengono ancora fatti per celebrare un film che è diventato culto non solo il primo perché poi dal 79 in avanti sono usciti negli anni 80 il seguito il numero 2 il numero 3 dal 79 all'85 poi aspettare avevamo potuto aspettare il 2015 per Fury Road e poi questo Furiosa che ovviamente aveva e per il quale avevo delle aspettative molto alte ma che mi aspettavo dovesse per forza essere diverso diciamo che la parte prettamente action con il camion cisterna c'è ed è un rimando interessantissimo di una scena veramente spettacolare una scena d'azione girata e montata in modo tale che ovviamente non ha sembra non avere uguali cioè a questo livello veramente si fa fatica a trovare a trovare film così alti tecnicamente che riescono anche personalmente lo dico io a coinvolgermi a un punto tale che tutta quell'azione non diventa fastidiosa non diventa lunga non diventa stancante agli occhi anzi riesce a coinvolgere talmente tanto che diventa la magia cinematografica a tratti a mio avviso nel senso che quello che di grandioso di quasi capolavoro di mezzo capolavoro visto in Fury Road era difficilmente raggiungibile con Furiosa che sviluppa come ho detto un personaggio da quando è piccola in avanti lo sviluppa senza bisogno di utilizzare il dialogo è un film dialogato sì ma dialogato da parte del villain di turno rappresentato molto bene anche questo dal ritorno di altri personaggi che avevamo visto in Fury Road come in Morton Joe ma appunto la presenza del villain qui molto molto caratteristico nel senso che qui ingombrante diciamo ingombrante positivamente a livello narrativo che dovrà che sarà l'oggetto diciamo di vendetta della nostra Furiosa per ridurre in maniera semplicistica quello che è l'intenzione è un po' lo scopo a livello narrativo di tutto il film ecco che tutto questo sviluppo di questi personaggi non non diciamo sono accompagnati da quella che è la presenza non dialogata la presenza senza dialoghi presso che senza dialoghi perché le battute saranno una ventina di battute in tutto il film della nostra Furiosa meglio di Anya Taylor Joy che interpreta il personaggio di Furiosa e lo fa tra l'altro a partire da 50 un'ora 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 e dieci di film da quel punto in poi perché precedentemente è rappresentata e interpretata da una da una bambina da una ragazzina sostanzialmente vedremo Furiosa adulta da non dico metà ma su per giù probabilmente da metà in poi una ragazzina che inizia e ci inizia a questo film cogliendo una pesca in una situazione appunto in un mondo post apocalittico dove avere un frutto avere una pesca colta dall'albero è qualcosa di straordinario qualcosa veramente di desiderato da tanti da tutti e che pochi possono avere e cogliere questa questa pesca da questo albero in questo luogo verde sembra quasi riportarci a quella che è come parallelismo come analogia il cogliere la mela dall'eden che cosa pagherà poi cosa dovrà andare incontro e cosa dovrà subire la povera ragazzina Furiosa che va a prendere questa pesca e da lì in avanti è tutto un sosseguirsi questo nocciolo poi di pesca che lei avrà continuamente con sé porterà continuamente con se un qualcosa di simbolico di importante in un in un luogo e in un momento della 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 terra per l'essere umano è caratterizzato da aridità caratterizzato da questi deserti inventazione veramente meravigliosa un impatto soprattutto la mi è piaciuta tantissimo la prima parte quella in moto quella dove il deserto la fa da protagonista gli inseguimenti in moto con questi rumori di motore che si susseguono a dei silenzi desertici sull'utilizzo dell'effetto degli effetti sonori del montaggio sonoro sono strapiglianti questo film è un film di straordinaria grandezza tecnica e di una qualcosa di veramente bello da vedere rimane un film che non è solamente qualcosa di visivo ma anche qualcosa di concettuale lo era già Mad Max Fury Road già si parlava della condizione determinata condizione umana ovviamente di classe sociali di di donne situazioni della donna e della madre qui una situazione in cui l'essere umano è autore della stessa e gli stessi autori della sua a distruzione è autodistruttivo l'essere umano e si ritrova in questo mondo post apocalittico che cerca di ricostruire o meglio non cerca di costruire c'è chi prova a costruirlo c'è chi prova a sfruttarlo ci si sposta si sfrutta e si va avanti e quindi a livello sociale un film è molto forte all'interno di un aspetto concettuale di film veramente spettacolare lo spettacolo a servizio del messaggio sociale troviamo ancora altri aspetti legati all'importanza di come l'uomo e l'essere umano dovrebbe cercare di riprendere se stesso riprendere quello che era una volta quindi vediamo la figura di questo uomo tatuato che porta con sé la conoscenza un uomo una un'enciclopedia vivente con tatuate le le informazioni la cultura che dovrebbe essere portata avanti è tanto questo film qui anche se secondo me non è ai livelli del di fury road non dico altro nel senso che poi alla fine era solo così un mio una mia opinione su un film di cui si sta parlando ovviamente tanto questa era semplicemente una mia la mia opinione anche abbastanza diciamo non completa nel senso che visto una volta sola secondo me di veramente difficile riuscire a a incamerare e a assorbire tutto quello che è un film di questa grandiosità e il suo impatto effettivamente comunica quindi bisognerebbe un attimo ho aspettato un paio di giorni ma forse ancora sono pochi e però più tempo passa più c'è bisogno di una seconda visione quindi sono arrivato a un punto di non ritorno in cui dovevo per forza parlarne prima di dimenticarmi tutto quello che il film è riuscito riesce a dire è una mad max saga nel senso che mad max qui non è presente anche se poi comunque se state attenti qualcosina qualcosina c'è una strizzatina d'occhio c'è vediamo se cosa ci ci aspetta come sviluppo successivo beh ditemi la vostra e noi ci rivediamo alla prossima e noi ci rivediamo alla prossima